amici benvenuti sul mio canale un saluto a tutti da leonard bentornati ai vecchi visitatori e benvenuto ai nuovi visitatori continuiamo recensione di gallieri dello zodiaco sono riuscire a reperire un pezzo non molto semplice da trovare ovvero il cavaliere del cancro prima edizione con la scatola al tempio l'abbiamo già visto con la scatola azzurra con la scatola a tempio è molto molto raro il cavaliere del cancro l'abbiamo trovato in buonissime condizioni guardate lo apro qui al completo di tutti i pezzi adesso lo andremo ad aprire e lo andremo a montare e lo andremo poi a confrontare sulla piattaforma rotante a 360 gradi quindi possiamo vedere il cavaliere completo ecco mettiamo qui la scatola togliamo il blister col poli vediamo la parte in polistirolo è completa anche di questo pezzo che evita che il personaggio poi esca abbiamo visto l'armatura guardate veramente l'armatura in perfette condizioni di doratura anche le cromature sono in ottime condizioni fatemi controllare i perni perché è la prima volta che lo apro qui anche insieme a voi sì i perni sono purtroppo questi perni erano abbastanza fragili di di cancro ricordo alcuni amici a scuola che ce l'avevano danneggiato sì le spalline sono in buone condizioni vediamo lumino lumino rigido eccolo qui cavaliere bandaio originale beh ragazzi abbiamo abbiamo trovato un ottimo un ottimo prodotto e adesso lo andremo piano piano a montare e lo vedremo in tutto il suo splendore tiriamo fuori questa bustina trasparente ecco come vedete qui abbiamo le talloniere e i copripiedi cromature perfette ottime condizioni partiamo da basso le talloniere le metterò all'ultimo quando lo metterò in verticale sulla piattaforma rotante perché quando lo poggio poi sul sul tavolo purtroppo sono danno fastidio un po come le code di fenix le talloniere che aveva anche sagittario o le stesse talloniere che aveva anche crystal in molti personaggi le hanno quindi partiamo con i gambali vali molto rigidi ma è stato un bel prodotto ragazzi difficilissimo da trovare in queste condizioni ovviamente invito a tutti ci sono persone che mi hanno fatto delle domande sul canale colgo l'occasione anche per rispondere a loro molti mi hanno detto qual è meglio delle versioni che posso trovare dei cavalieri d'oro quelli del 2001 quelli del bandai che differenza c'è tra quelli a scatole a tempio e scatola azzurra allora la differenza tra le scatole è solo nella scatola non nel personaggio perché il personaggio è praticamente identico sono gli stessi identici personaggi questi bandai guardate dopo 30 anni ancora sono abbastanza rigidi come giunture la doratura soprattutto se non è stati se non sono stati esposti ovviamente al sole perché poi se tu un giocattolo metti al sole è chiaro che ha una esposizione maggiore diciamo alle interperie quindi una minore qualità ma questo cavaliere è stato mantenuto in ottime condizioni la duratura di queste armature durava molto di più molto di più rispetto alle armature alle versioni poi successive anche rispetto a quelle del 2004 anche se i cavalieri d'oro del 2004 non erano fatti malissimo bisogna dire sincera vita i bicolor sono molto belli specialmente cancer che rispetta quelle placche azzurre che ha sul petto eccolo qua che nella versione bandai non ha la versione 2001 sappiamo che è una versione bootleg quindi la qualità di quei prodotti è di molto inferiore quindi ragazzi la risposta è quale comprare sempre 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 priorità ovviamente ai cavalieri bandai sempre sempre priorità ai cavalieri bandai i cavalieri bandai sono i migliori sono della migliore qualità sono non tanto semplici da trovare specialmente in buone condizioni e facile ci siano delle parti un po danneggiate ma i cavalieri bandai guardate qua sono i più belli i modellini sono eccezionali e vi devo dire la sincera verità sono i più belli a cui potete attingere quindi quelli del 1990 seppur con delle caratteristiche meno rispetto ai bicolor sono sempre più belli dopo di questi diciamo che vengono quelli bicolor del 2004 e poi in ultimo tutti i bootleg che vi capitano ovviamente un bootleg non è un'edizione originale un saint fighter seppur difficilissimo da trovare a prezzi da collezionismo non avrà però la qualità di un cavaliere bandai quindi quelli dell 88 90 ragazzi giapponesi ovviamente se trovate un bandai anche spagnolo francese prendetele assolutamente perché sono sempre quelli della bandai originale e queste questa edizione hanno una qualità di gran lunga maggiore io spero che questa parte vi sia piaciuta adesso lo vedremo in verticale e insieme al mit ex come abbiamo sempre fatto per queste versioni con la scatola a tempio monterò le talloniere e lo vedremo sulla sua piattaforma rotante quindi ci vedremo tra poco con la vista in verticale del cavaliere del cancro amici eccoci qui con la vista in verticale come sempre nella seconda parte del video possiamo andare ad ammirare il cavaliere in tutto il suo splendore sulla piattaforma rotante al centro c'è la bellissima scatola a tempio perché ragazzi sono sempre le più belle sì quelle azzurre hanno il fascino della prima edizione ma queste a tempio mi ricordano il natale del 1990 quindi perché sono stati poi veramente venduti tanti in quel periodo insieme agli altri cavalieri con la scatola a tempio quindi quelli di asgard e quelli di nettono quindi sono sempre quel fascino diciamo irresistibile e poi c'è il meraviglioso mit come lo vedete il mit ex del cadere il cancro che veramente li raggiungiamo il top del in quanto per quanto riguarda il modellino allora andiamo un po parlare di questo personaggio come ho detto l'amore del cancro una delle più belle tra i cavaliere d'oro come modellini fatta veramente bene semplice in termini di costruzione si chiude vedere il pettorale si chiude dietro come quella dello scorpione quindi anche se sono molto simili a questi bracciali enormi con con le scuole con le tenaglie del cancro appunto molto squamata molto bella l'unico difetto che posso trovare in questa armatura che è stato corretto nell'edizione bicolor appunto la mancanza dei riferimenti al colore originale che noi eravamo abituati a vedere nella nella serie tv ora qualche cavaliere aveva delle sfumature diverse dell'armatura d'oro aveva delle parti più chiaro più scure più ramate meno ramate pensate al cinturone dorato chiaro dell'armatura del sagittario quando pegasus indossa l'armatura del sagittario ad esempio contro leone pensate all'armatura del toro che era più ramata più scura rispetto più arancione rispetto alle altre pensate all'armatura del capricorno che aveva delle parti bianche queste anche se fatte tutte in oro come modellino ci si faceva meno caso però alcuni cavalieri vedi i diademi che mancavano nel cavaliere del di acquario nel cavaliere del leone che aveva due diademi uno sulla cintura e uno sul sull'elmo la parte rossa dell'elmo di di vergine c'erano dei piccoli particolari che già cominciavano un pochino a fastorci il naso purtroppo l'armatura del cancro aveva oltre al diadema sul sull'elmo a coroncina oltre al diadema sulla parte del del pettorale sulla parte del collo inizio del collo aveva poi queste squame blu e sulla cintura e sul torace e prendi un cavaliere che non ha queste scuole che è completamente dorato purtroppo questa cosa un po stonava attenzione nulla togliere nulla togliere sulla qualità del personaggio perché veramente questi bandai erano belli 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 e specialmente i cali di toro erano tutti 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 belli sono gli amati tutti difficile scegliere un'armatura più bella dell'altra possiamo parlare delle caratteristiche più bello meno belle di ogni armatura quella si ma scegliere una cosa migliore dell'altra da quelli d'oro è veramente molto molto difficile e quindi possiamo opinare tra virgolette sulla mancanza di questi colori ma non non assolutamente non possiamo dire nulla sulla qualità di come sono stati costruiti c'è anche tutto dorato il cagliere del cancro è veramente fatto bene il viso poi un po cattivo che ricordava il personaggio di death mask di cancer e questa armatura ora ricordiamo sempre una cosa noi vediamo che questa armatura ha delle differenti squame diciamo delle tenaglie diverse tra il braccio destro il braccio sinistro vediamo che ci sono delle caratteristiche diverse rispetto al cartone rispetto all'anime dei gambali quindi alcune rifiniture sono diverse beh ragazzi ricordiamo sempre questa cosa l'ho detto anche in altri video la ripeto qui che al momento dell'uscita dell'anime prima ancora che venivano disegnati i cavalieri del i cavalieri d'oro i modellini sono cominciati ad uscire mentre veniva prodotta alla serie quindi hanno cominciato ad uscire i cinque cavalieri di bronzo e poi i cavalieri d'oro perché comunque erano i cavalieri i modellini legati ai segni zodiacali quindi erano più facile più facile essere che venissero venduti no io sono del capricorno mi compro cadere il capricorno quello è del leone si compra cadere del leone quindi nel proprio segno zodiacale c'era un merchandising maggiore però però non avevano ancora disegnato l'anime quindi ancora non si era arrivati a disegnare l'anime e molto spesso c'erano state delle modifiche su alcune parti pensate ai alle ginocchiere del leone che sono completamente diverse tra l'anime il personaggio e il modellino perché perché facevano riferimento alle schede che masami kurumata disegnava nel manga quindi molti di questi personaggi erano stati presi dal manga e quindi anche la differenza dei bracciali alcune caratteristiche differenti si riferivano al manga quindi se ci sono delle piccole differenze sono prese nel manga version tra virgolette rispetto all'anime version per quanto riguarda i mit invece i mit sono stati fatti molto tempo dopo riferimento completo all'anime e quindi abbiamo un'armatura completamente identica quella dell'anime anche con quelle differenze chiaro scuro ad esempio sulle sulle spalline che hanno la parte centrale delle spalline più chiare rispetto alla parte durata un po più scura delle squame e così via insomma anche qui hanno rispettato le parti in blu e il mit ovviamente abbiamo un personaggio perfetto e molto 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 bello da vedere quale prenderete due ovviamente ragazzi il mit è sempre il numero uno per quanto riguarda la qualità per quanto riguarda invece la versione vintage la qualità andare sempre sui prodotti del 1990 del bandai 88 90 perché sono sempre quelli migliori guardate un personaggio che ha più di 30 anni ha delle durature praticamente perfette non è stato giocato non ha sbeccature ovvio però anche se fosse stato solo esposto in bacheca o comunque si ha preso della luce la parte metallica e ha resistito molto bene ha reso possibile ancora oggi a ammirare un qualcosa di veramente bello e pensate che questi prodotti questi modellini per l'epoca se non c'erano i mit quindi non ci abbiamo un paragone di un prodotto semi perfetto era veramente il top e avevano realizzato veramente delle cose molto molto belle e la giochi preziosi le ha importati in italia io spero che questa recensione sia stata utile vi sia piaciuta che vi abbia reso un po anche l'idea su quello che potrebbe essere un vostro acquisto in futuro per se volete acquistare prodotti vintage con i prodotti li tornate anche sul mio canale ebay dove alcuni questi cavalieri vengono venduti io mi auguro che questa recensione vi sia piaciuta spero vivamente che sia stata di vostro gradimento quindi se vi è piaciuto lasciate un like commentate o iscrivetevi al canale così rimanete sempre aggiornati su quelle che saranno le prossime recensioni sia in termini di anime sia in termini videogame o in termini appunto anche di modellini sui sensei ci ritorneremo spesso quindi io vi ringrazio di esservi soffermati sul mio canale un saluto a tutti da leonard grazie a tutti